Campi devastati, raccolti in fumo. E il quadro desolante, peraltro già segnalato nella grande manifestazione del 27 giugno scorso a Pescara, a distanza di quasi un mese, Coldiretti rilancia l'appello, chiedendo alla regione un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Sentiamo il direttore di Coldiretti Pescara, Roberto Rampazzo. Purtroppo devo dire e constatare che siamo a un punto morto, perché da un mese a questa parte, dopo la nostra manifestazione, in regione Abruzzo ancora non è stato fatto nulla per applicare un piano di contenimento efficace ed efficiente per mantenere e contenere la fauna selvatica. Fauna selvatica che parliamo di cinghiali soprattutto. I cinghiali ora come ora stanno facendo veramente danni, soprattutto nei campi di mais, nelle orticole. Dopo abbiamo un altro grosso problema, che sono quelli degli storni. Storni che viaggiano in gruppi di centinaia e si abbattono sui vignetti come fosse una grandine. Dopo che sono passati loro, sicuramente nell'ambito del vigneto non rimane più nulla. A questi fenomeni conosciuti e ricorrenti se ne aggiunge un altro, la voracità delle cavallette. Soprattutto nel terramano abbiamo fenomeni di milioni di cavallette che si stanno muovendo e questo purtroppo è dovuto alla siccità che anche nella nostra regione sta attanaliando con il troppo caldo. Cavallette che si stanno muovendo e dove passano loro dai seminativi, dal foraggio, dalle orticole non rimane più nulla. Grazie. 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 Grazie.